Occhio allo schermo, signore e signori. Vista la svista, errore numero 7 del concorso. Aperta la caccia in bocca al lupo, errore numero 7, attenzione. Ma prima vogliamo ripetervi il metodo della fortuna. Più schede invierete, più probabilità di vittoria avrete. Mille occhette, mille palloni, 24 rottopolino vi aspettano. E di nuovo, attenzione. E posso aprire un po' di caccia? E poi, no? Non conoscerà anche un abriolo che c'è? Don Giovanni, Don Giovanni, impara il suo mestiere. Decille! Ah, ho sentito un rumore. Eh, e io ho sentito un rumore. Ma mi sembra questo il modo di avvicinare e conquistare una donna. Ma perché come si fa? Con un pizzicotto. E a me non si ma piace. Ma no, volete vedere come si conquista una donna? Avete un figliaccio di bani? No, sono un miliardi per fra. Avete 5.000 lire? Ma perché 500 non bastano? 5.000, 5.000, ecco, permettete, faccio io. Le vedete queste? Eh. Adesso? Non le vedete più. No. No, no, vi ho un colpo di vento, se porti, sono... Ah, che carina! Scusi, signor Regnano, ha perduto 5.000 di te? Io no. Eppure queste 5.000 lire sono sue. Ma non sono mie. Non sono sue? No. Non sono neanche mie. Eh, sono mie. Eppure io devo insistere. Ma non insistere, sarà il signorino di Cedino, significa che è una brava ragazza. Ho visto io questo foglio volare dalla sua borsetta. Grazie mille. Grazie 5.000. Scusi, signorina, dove è diretta? In albergo. Quale albergo? Moderno. Ci sarò. Ci saremo. Ci sarò. Ci saremo. Che? Ehi, è andata. E con lei le 5.000 lire vigna. E che bello conquistare. Vista la svista?